Il mio lavoro mi porta in molti posti. Il lavoro è stabile, si guadagna bene. Ma non è per tutti. Mi chiamo Joe. Questo è quello che faccio. Lo scopo della sua visita a Bangkok, signor Wilson? Vacanze. Quante persone ha ucciso? Non le conto. La polizia sa chi è lei? Nessuno sa chi sono. Quest'uomo combatte i cattivi e aiuta i deboli. Uccidere un politico non è nel contratto. Sì. Avevamo un accordo. Se vedo di nuovo la tua gente, sei morto. C'è un codice da seguire. Uno, non fare domande. Due, non fidarti di nessuno. Tre, non lasciarti coinvolgere. Quattro, devi essere il migliore in quello che fai. Qual è il tuo lavoro? Lavoro in banca. Bangkok Dangerous. Za gradi. Puoi Cattop山.